Pronto? Sì, sì, lo so, sono irritato, scusami No No, è che sono andata fuori città per un sopralluogo con il mio D.O.P Sì, sì, sto rientrando ora No, no No, in pratica una casa di produzione ha... Sì, esatto, ho organizzato un contest per il miglior cortometaggio horror e io ho deciso di parteciparvi No, no, niente di che No, non so neanche cosa si vinca in realtà Sì, ma ho sentito che qua vicino girerà un'altra troupe Eh, esatto, quello sì che potrebbe essere un problema Sì, pensa che tra l'altro devo anche inserire uno stupido paio di forbici dorate Esatto, io non ho proprio la minima idea di come... Pronto? Ehi, mi senti? Pronto? Merda, non c'è l'inio Beh, cazzo, sono finita Cazzo Non c'è l'inio 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 Devi farlo, siamo qui per questo Ma non c'è l'inio È più forte di me Madonna, questo è il rito di passaggio per diventare uno di noi Tutti l'abbiamo fatto al nostro tempo Sì, lo so Ma il punto è che non so se voglio più farne parte Ho paura di aver commesso uno sbaglio Nessuno sbaglio, Madonna Lo so che è difficile Ma tra noi non esistono ripensamenti La prossima volta sarai pronto Questa lasciala di noi No, va bene Dai, questa è la perfetta Dai, su, è la quinta volta Non è possibile Ma Giuliano, ma puoi fare un po' più di attenzione? È la quinta volta che la giriamo per colpa tua La quinta Ragazzi, voi andavate bene Non vi preoccupate Dai, rifacciamo Devo fare tutto io qua Scusi, io come l'ho fatta? Andava bene? Andavi benissimo, benissimo Nel proprio sicuro Certo Se no, come la faresti? Se vuoi, io comunque posso farlo un po' più triste Insomma, magari metto un pianto Quando mi giro Tu ti giri così e piangi un po' Mi fai una faccia Bravo, perfetto Allora ragazzi, andava bene Adesso la rifacciamo Però abbiamo poco tempo D'accordo? Pronti? Dai, dai, dai Produzione? Ci serve un'altra ragazza Ricevuto, provvediamo subito Forza! La rigiriamo Dai, in posizione Dai, dai Secondo me è un po' esagerato Alla fine è solo un contest Dai Ne arriva un altro Giulia? Dai, facciamo uguale Oh Siete pronti ragazzi? Sì Luci Ma Luci, che cosa non manda? È l'attrice? Ma dov'è l'attrice? Stiamo girando Ah ma dov'è? È un troll Ma dov'è l'attrice? Sei più che deve dire Come la patrice? Chiama il tuo gruppo, no? Come la fare? Erano a prendere l'altro Stiamo andando in colta no 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 Grazie per la visione!